RISCHIANO DI ESSERE LE PIÙ INVIDIATE DEL MONDO Rischiano di essere le più invidiate del mondo queste mucche inglesi. Un allevatore scozzese con te alla mano ha scoperto che farle dormire sui materassini di gomma piuma anziché sulla paglia è molto più economico. Ecco perché ha costruito una stalla dotata di ogni confort moderno, doccia, riscaldamento, materassi. Manca ancora il telefono, è vero, ma prima o poi troveremo anche loro sull'elenco. Partire è un po' morire. È vero che le scimmiette hanno più dimestichezza con le noccioline che non con i proverbi, ma questo sembra proprio che l'abbiano imparato. Infatti fanno del loro meglio per commuovere la padrona. Poi, visto che non ci riescono e che tutte le moine sono inutili, diventano dispettose come scimmie e tentano di mandare in malora i preparativi per la partenza. Avevano perfettamente ragione. Addio libertà, addio bei pranzetti. Loro, tanto carine e tanto fini, ora dovranno starsene in gabbia assieme agli scimmioni, gli orribili progenitori dell'uomo.